Cosa è dopo il 999? 2000 Signora, ma come 2000? No, 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 raga, non posso ridere No, non posso ridere, raga, perché ancora la golla che mi fa un po' male, no? Ma come 2000, signora? Dopo il 999 c'è il 2000 E il 1000 dopo cos'è? Scusi, dopo il 99 Ma come?